buongiorno se lo sentite di mattina buona mattina allora volevo fare un video come promesso sull'integrazione delle fratte no un attimo volevo aprire una serie di video sull'integrale delle fratte perché volevo fare dei video molto brevi segmentati a seconda del caso il presente quello che sto per girare adesso quello che sto per dirvi adesso voleva essere un po riassuntivo di tutto volevo presentarvi uno schema volevo aiutarvi a ragionare in maniera schematica se la prima cosa che guardi è questa se è così allora l'integrale è eccetera eccetera quindi bando le ciance siccome io voglio appunto fare dei video abbastanza veloci non lunghi non più di 20 minuti anzi anche meno vado subito a condividervi lo schermo mi raccomando scrivetemi al mio canale e vado mi presento subito quello che ho schematizzato anche a scuola premessa quest'integrazione delle fratte riguarda i casi che si fanno di solito nella scuola superiore già non vado sul difficile integrali di fratte tutto sommato non proprio così difficilissimi allora prima cosa che voi guardate se il denominatore è un monomio monomio o una singola una singola x anche elevata all'un terzo cioè anche radice allora se fosse così spezzate spezza spezza la frazione ve lo faccio vedere con un esempio mettiamo anche di trovarci di fronte a un caso antipatico come ci potrebbero essere dei polinomi con dei termini x elevato all'un mezzo radice di x vuol dire x elevato all'un mezzo mettiamo che anche pure il denominatore abbiate una situazione del genere radice cubica di x come dire x all'un terzo allora però nessuno vi vieta a spezzare allora io vado un attimino veloce nel fare i calcoli allora se spezzo qui cosa vorrebbe dire x alla terza fratto x all'un terzo proprietà delle potenze di un diviso vuol dire 3 meno un terzo x alla 3 meno un terzo che è un'operazione sarà antipatica perché è tra frazioni tra numeri interi e frazioni però la riuscite a fare spezzando è x alla terza fratto x all'un terzo poi avete spezzato x all'un mezzo diviso x all'un terzo che vorrebbe dire x all'un mezzo meno un terzo in dx allora io potrei adesso in questo video visto che non vi voglio non voglio che sia troppo lungo dire vabbè quest'operazione la fate poi applicate la regoletta ma faccio uno sforzo va 3 per 3 9 meno 1 fa 8 questo in x alla 8 terzi in dx meno x denominatore comune sarebbe 6 6 diviso 2 3 e meno 2 quindi all'un sesto in dx e poi regoletta dell'x all'alfa x all'otto terzi più 1 8 terzi più 1 diventa 11 terzi fratto 11 terzi quindi vuol dire per 3 undicesimi meno x all'un sesto più 1 1 sesto più 1 vuol dire 7 sesti fratto 7 sesti che vorrebbe dire per 6 settimi più c ok poi sistemate x alla 11 terzi radice cubica comunque l'idea è che quando il denominatore è un single è un single come mai potete dividere x alla terza fratto radice cubica di x x alla mezzo fratto x all'un terzo secondo caso se non è un monomio osservate subito se il numeratore è o può essere o può essere la derivata del denominatore allora in quel caso è se voi siete in una situazione del genere sopra è la derivata del sotto velocemente subito in integrale quasi immediato è il logaritmo del valore assoluto di quello sotto del denominatore ovviamente sempre più c lo è o può essere quindi voi fate un ragionamento io mi trovo ad avere per esempio x alla seconda meno 2x la derivata di x alla seconda meno 2x cosa sarebbe 2x meno 2 mettiamo che voi al denominatore al numeratore abbiate una cosa tipo 3x meno 3 e vabbè allora cosa dite innanzitutto raccolgo il 3 quindi raccolgo il 3 glielo metto qui davanti e quindi questi mi diventano se io le raccolgo diventano 1 e 1 era 3x meno 3 raccolgo il 3x meno 1 3x meno 3 e diventa così poi io in realtà avrei bisogno di un bel 2 quindi moltiplico tutto per 2 però non è che posso fare le cose come ciò voglia io cioè il 3 va bene c'era l'ho raccolto non ho fatto niente di diverso se moltiplico tutto per 2 ho cambiato l'esercizio se moltiplico per 2 divido anche per 2 per compensare le cose perché non è che se un esercizio che mi propongono non mi piace li cambio un termine ho moltiplicato per 2 per compensare divido per 2 moltiplico divido per 2 come se non avessi fatto niente adesso è diventata la derivata sopra del sotto quindi 3 mezzi logaritmo di x alla seconda meno 2x e questo è fatto quindi o se direttamente sopra la derivata del sotto o se in qualche maniera riuscite o moltiplicando o raccogliendo una x a farla diventare o entrambe le cose raccolgo e moltiplico e divido per 2 raccolgo un 3 e moltiplico e divido per 2 quindi questo è il secondo caso quindi non buttatevi per esempio in questo caso uno potrebbe dire il denominatore di secondo grado faccio quello che mi dice la prof nei casi del fate della fatica per niente se sopra la cioè non è che non vi venga noi tratteremo il caso del denominatore di secondo grado però se voi scoprite che sopra la derivata del sotto c'è la via diretta che vi fa risparmiare tanto tempo perché l'esercizio in pratica è un integrale immediato che fate in un secondo terzo caso se il grado del numeratore è maggiore o uguale del grado del denominatore allora procedete con la divisione dividete in fondo la linea di frazione dividete ok in fondo la linea di frazione vuol dire una divisione questa divisione fatela e vi farò un video opposta su questo perché in questo video non voglio solo presentarvi una carellata di casi poi ultima cosa se non fossimo in nessuno di questi casi o se mi sono ridotta a far la divisione a un certo punto a dovermi risolvere una fratta dove il denominatore è di secondo grado ovviamente il denominatore è di secondo grado e il numeratore non è di secondo grado terzo, quarto, quinto eccetera eccetera se no procederei con la divisione quindi il numeratore o è di primo o è di numerico allora in questo caso vi farò dei video ci si comporta in maniera diversa a seconda che il denominatore ricondotto diciamo come se fosse un denominatore di secondo grado quindi una cosa tipo x alla seconda meno 3x più 2 faccio finta che sia un'equazione e questa equazione abbia il delta maggiore di 0 il delta uguale a 0 quindi due soluzioni una oppure nessuna soluzione questo allora questo ve lo faccio in un vedere in un video questo ve lo faccio vedere in un video questo ve lo faccio vedere in un video ok? allora per seguire 1, 2, 3 video mi raccomando caso 5 ricordatevi sempre che tutte le volte che avete un qualsiasi numero e sotto c'è x più a x più 2 x meno 5 x meno 8 in dx qui possiamo sicuramente ricondurci al numeratore derivata del denominatore perché se il denominatore è di primo grado la sua derivata è 1 o tutta il più se non fosse proprio 1 perché davanti alla x ci si presenta un numero mx la derivata sarebbe m io moltiplico e divido per m ok? ma di solito allora se questo non succedesse che voi avete una bella x più a n vabbè una costante la portate fuori sarà sempre il logaritmo di x più a ok? quindi io nei video che farò soprattutto in questo e anche in questo non vi starò a ripetere questa cosa 1 fratto n lo porto fuori 1 fratto x più a è n che ho portato fuori se non c'è fa niente logaritmo del denominatore se davanti alla x ci fosse un numero quel numero glielo vabbè una volta che avete imparato il meccanismo potete non fare il passaggio siccome se davanti alla x ci fosse un numero io moltiplico e divido sarà un perché l'ho portato fuori fratto m m è questo numeretto qui io devo moltiplicare e dividere per m quindi qui verrà n fratto m logaritmo di m x più a ok? quindi è la prima cosa che vi chiedo di ricordare seconda cosa che vi chiedo di ricordare se a denominatore invece di avere un x più a voi foste davanti a un caso di 1 fratto x più a al quadrato ricordatevi che questo è se non c'è 1 è un numero che portate fuori questo sempre sarebbe meno 1 fratto x più a allora come ho fatto a spiegarlo ai miei studenti? allora si può spiegare in tre maniere differenti una potrebbe essere quella di dire io lo risolvo per sostituzione x più a la chiamo t e derivo a destra a sinistra la derivata di x in x è di x la derivata di t è di 1 in di t quindi il di x e il di t sarebbero la stessa cosa l'x più a è la t t è la seconda quindi è come se avessi t alla meno 2 come si deriva? eh sì si integra t alla meno 2 t alla meno 1 fratto meno 1 t alla meno 1 vuol dire 1 fratto la t che è questa roba qui fratto meno 1 il meno lo porto davanti io vi ho dimostrato la cosa oppure facciamo la cosa se questo io ve l'ho detto se fosse vero prendiamolo come atto di fatto per convincersi che è vero proviamo a fare la derivata la derivata di questa funzione deve essere l'integranda come si derivano le fratte denominatore al quadrato e talchi derivata del numeratore il numeratore è un 1 è un numero quindi la sua derivata è 0 0 per il denominatore fa 0 meno il numeratore che sarebbe meno 1 quindi viene più 1 per la derivata del numeratore che è 1 quindi il numeratore quindi la derivata di questo è quello oppure facendolo così oppure come quasi immediato io ho una funzione che è x più a che è alla meno 2 con a fianco la sua derivata che sarebbe 1 e quindi verrebbe quella funzione lì alla meno 1 fratto meno 1 alla meno 1 vuol dire che va al denominatore col meno davanti comunque sia ricordatevi queste cose per seguire bene i prossimi video ok allora vi ho detto tutto torno da voi eccomi qua ok ho sugli occhiali si vede il riflesso quindi questo è il video riassuntivo quanti minuti ci ho messo 13 benissimo sono felicissima ho fatto il video riassuntivo ovviamente questi sono i casi di integrale più semplici che si affrontano in una scuola superiore che sia un ITIS che sia un istituto tecnico che sia un liceo liceo si fanno la fine dell'anno queste cose no liceo scientifico in quinta queste sono le cose principali adesso vado a registrare i video sulla 1 su come si divide il caso di una divisione 2 delta maggiore denominatore secondo grado delta maggiore di 0 è anche uguale a 0 li mettiamo insieme 3 video su quando il denominatore è di secondo grado ma non è scomponibile ok mi raccomando il like al mio canale